Alla parire del programma della prima edizione, la prima cosa che abbiamo pensato tutti è speriamo subito di una seconda, eccoci qua. Ma veramente, ma sai il merito non è quello di programmare della musica, di cercare i luoghi belli e di avere anche i finanziamenti, senza il comune qua non si sarebbe fatto niente e per questo io insisto molto sul fatto che abbiamo avuto uno straordinario sostegno che data la situazione è ancora più, non ce l'aspettavamo neanche perché siamo realistici, si rendiamo conto in che acque si navigli, però poi avuto questa certezza abbiamo fatto tutto quello che era possibile per creare una seconda edizione che non fosse inferiore e non lo sarà, inferiore la prima, assolutamente. Bisogna solamente conservare il pubblico e accrescere questo pubblico e conservare l'interesse che abbiamo notato tra la gente che veniva ai concerti della prima edizione. Noi ci auguriamo che sia così, ci stiamo lavorando sodo. Un concerto gratuito, poi una passeggiata da un luogo all'altro fra i meravigliosi siti del patrimonio culturale napoletano, poi un altro concerto, quattro giorni così, da mattina a sera, pieni di musica e bellezza, che l'anno scorso hanno attirato oltre 6.000 spettatori. Il Festival Spina Corona si ripete, con 21 concerti, sempre sotto la direzione artistica del maestro Michele Campanella ed il supporto organizzativo della Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago. Questa volta l'ospite d'onore sarà Ruggero Raimondi, una celebrità internazionale della lirica ricordata ovunque nel mondo per il Don Giovanni di Lusei del 79. Dal 20 al 23 settembre la musica da camera si alternerà a quella sinfonica, alla lirica, al jazz e dalla letteratura. Apertura con l'orchestra della Toscana al Teatro Mercadante, con Campanella al pianoforte dalla concertazione, nell'esecuzione dei concerti 1 e 3 di Beethoven. Poi nel folto programma, tra gli altri, troviamo grandi interpreti del clarinetto e delle vocalità di Rossini, Renato Carpentieri, voce recitante del concerto di chiusura ancora al Mercadante, e la presenza della splendida tradizione del barocco napoletano. Mi sembra che l'idea di abbinare i luoghi d'arte e i luoghi anche poco conosciuti dalla città, però carichi di storia e di significato, con delle esecuzioni musicali basate sulla grande repertorio, ma anche su proposte magari più particolari, come nel caso specifico la musica barocca napoletana, sia una formula interessante che poi di solito va sempre a cercare e trovare un pubblico nuovo, che appunto, come è stato anche oggi ricordato, è importante che venga stimolato con tutta una serie di politiche che vanno adottate per trovare nuovo spazio per la musica e nuovo pubblico per la musica. Altro aspetto importante è ancora la cornice, con le chiese di Santa Catrina Formiello, San Giovanni a Mare, San Domenico Maggiore, San Gregorio Armeno, Santi Severino e Sossio, il cimitero delle Fontanelle, la biblioteca di Castel Capuano, sempre con l'ideale partenza dalla statua che dà il nome al festival, sulla fontana che celebra la sirena, che con la sua bellezza ferma le fiamme del vulcano. Spinacorona è stato l'anno scorso il più bel racconto di Napoli, dà l'idea di questa Napoli, in ogni angolo è una sorpresa straordinaria, è qualcosa di ineguagliabile, quindi tutto ciò insieme alla musica, i tanti amici del maestro Campanella che accolgono il suo invito da tutte le parti d'Italia e d'Europa vengono a Napoli, appunto fa ancora una volta di Napoli la capitale europea della musica.